Nella giornata internazionale contro la violenza su donne minori, istituita per portare in evidenza le esigenze di tutela dei soggetti più deboli, arriva la notizia che nella seduta della conferenza Stato-Regioni si sono sottoscritte due intese sulle politiche relativi ai diritti e alle pari opportunità. A renderlo noto è l'assessore regionale alle politiche della persona, Flavia Franconi. I provvedimenti sono finalizzati a potenziare il sostegno e le forme di assistenza alle donne vittime di violenza anche attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza. Grazie alle intese raggiunte si provvederà al riparto dei 18 milioni alle regioni sulle annualità 2015-2016 di 13 milioni per la realizzazione delle linee d'azione previste nel piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, destinando le risorse nazionali in modo complementare rispetto all'impiego di risorse proprie regionali. La regione basilicata ottiene in tali riparti oltre 300 mila euro da investire su un tema verso cui il governo regionale ha particolare attenzione, come dimostra anche il piano straordinario per la violenza di genere. Il risultato è stato reso possibile dal lavoro che la regione ha svolto nelle sedi di commissione degli assessori con delega alle politiche sociali nonché sui tavoli della conferenza. Apprezzamento per il lavoro e i risultati raggiunti è stato espresso anche dal ministro Boschi.